All'assessore all'ambiente, ecologia e protezione civile, dottoressa Lara Zanga, vogliamo chiedere un po' i contenuti di quell'iniziativa che si svolge domani, venerdì, 17 febbraio, presso la Sala Civica del Comune di Arbino e che ha come tema Milumino di Meno. Quest'anno l'amministrazione ha deciso di aderire all'iniziativa Milumino di Meno promossa da Caterpillar Radio 2 ed è un'iniziativa che c'è da diversi anni all'obiettivo proprio di sensibilizzare i cittadini al risparmio energetico e all'utilizzo di fonti di energia rinnovabile. Quest'iniziativa viene promossa attraverso la trasmissione di Caterpillar e rivolge a tutti i cittadini singoli, alle amministrazioni, alle associazioni, la possibilità di aderire spegnendo, la caratteristica principale di questa iniziativa è quella di spegnere le luci durante la giornata di Milumino di Meno che è venerdì 17 febbraio. Quest'anno noi come amministrazione di Albino abbiamo deciso di fare altre azioni oltre a quella di spegnere le illuminazioni degli edifici principali e dei monumenti principali della città, qualora ovviamente fosse possibile anche per motivi di sicurezza. Ed è quella di fare una tavola rotonda alle 16.30 di venerdì 17, è rivolta a tutti gli amministratori della media vallesseriana dal titolo L'Europa guida i comuni nella transizione energetica al 2050. È una relazione che verrà tenuta dal professor Leonardo Setti dell'Università di Bologna ed è anche questo professore un collaboratore e un consulente per la regione Emilia-Romagna, abbiamo l'onore di averlo qui ad Albino, l'abbiamo invitato ad Albino e per noi la tavola rotonda rivolta alle amministrazioni della media vallesseriana è l'occasione per stipulare e per stendere una serie di azioni che dovranno essere coordinate al fine di raggiungere appunto l'obiettivo che ci siamo posti che l'Unione Europea ci impone del 20-20-20, cioè entro il 2020 ridurre del 20% la produzione di emissioni di gas a serra e incrementare del 20% la produzione di energie rinnovabili. L'iniziativa invece un pochino più divertente e anche particolare verrà svolta durante la sera di venerdì 17 alle 20.15 il Consiglio Comunale dei Ragazzi che quest'anno si occupa dei temi dell'ambiente per l'anno internazionale proclamato dall'ONU sulle energie rinnovabili. Ci sarà questo Consiglio Comunale rivolto dai ragazzi che è rivolto agli studenti delle classi quinte, partecipi del Consiglio Comunale, ai genitori e a tutti i cittadini e in questa occasione il Professor Setti terrà una lezione rivolta ai ragazzi e ai genitori dal titolo Houston, We Have a Problem.